ben ritrovati con la rassegna stampa e studio con voi rosario moreno prima di iniziare con la lettura delle notizie nazionali diamo subito la parola a massimo bonella della redazione di venezia di pianeta oggi tv dopo riprendiamo con le notizie nazionali in tutta la giornata di ieri cielo terzo in europa chi avesse mai pensato che in serata ci fosse all'improvviso un violento temporale da mettere in ginocchio un'intera città il caso di auronzo dalle 20 infatti ieri sera i vigili del fuoco erano a lavoro per un violentissimo nubifraggio che ha interessato particolarmente i comuni di auronzo di cadore danta di cadore e santo stefano fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta o ferita le squadre permanenti e volontari le vigili del fuoco sono intervenute con oltre 40 operatori e 15 mezzi per il taglio di albri e rami che sono caduti nelle sedi stradali allargamenti smottamenti e colate di detriti la situazione più difficile più difficile ad auronzo dove il torrente del calvario è esondato creando numerosi allargamenti tra cui anche quello di un negozio di ottica è tutto per il momento massimo bonella per radio science bene e riprendiamo con le notizie nazionali l'inizio nazionale appunto dicevamo coronavirus impennata di contagi in spagna e francia in via in 24 ore mai così tanti negli ultimi mesi la germania supera l'indice di contagio rt1 l'epicentro mondiale della diffusione del virus continuano tuttavia ad essere gli stati uniti dove i morti nelle ultime 24 ore sono stati quasi 1600 il numero più alti da due mesi e più alto da due mesi e mezzo e 60 mila i nuovi casi almeno 150 mila persone sono decedute finora nel paese sono saliti a 21 gli stati usa definiti ridzone zona rossa coronavirus l'ISS dice contagi stabili da un mese ma età media più bassa 40 anni anziché 60 nuovi positivi il 30 per cento è asintomatico i dati che si riferiscono all'ultimo mese sono stati forniti dal presidente silvio brusaferro durante la presentazione del rapporto osmed sull'uso dei farmaci durante la pandemia in italia situazione sotto controllo ma tutto dimostra che il virus circola detto commissione giochi pericolosi tra forze di maggioranza sacrificato grasso alla giustizia speranza lascia il cdm dice serve chiarimento in aula i partiti di governo sono compatti al senato toccano quota 170 ma per il rinnovo delle presidenze di metà legislatura l'accordo traballa e non regge alla prova del voto segreto quello di grasso non è l'unico incidente nelle votazioni malumori tra i grillini dieci membri della commissione finanze alla camera vengono trasferiti dopo le proteste per la nomina del renziano morattin scostamento di bilancio e piano di riforme la maggioranza al senato tocca quota 170 come abbiamo detto c'è il via libera anche alla camera il parlamento approva anche il piano delle riforme per il recovery fund guardieri ha detto che ha atteso un ribalzo del pil del terzo trimestre del 15 per cento forza italia si allinea i sovranisti dicendo aperture su fisco ma vaghe tra i sì anche quello di lady mastella l'ultima trasfuga tra i forzisti la reazione di conte è che ha detto è andata bene la maggioranza è forte un funzionario onesto e il trojan gli appalti di due comuni del friuli nel mirino della finanza è un sindaco ai domiciliari primo cittadino di premariacco in provincia di udine roberto trentin e altre cinque persone sono state arrestate l'indagine condotta dalla guardia di finanza di udine su irregolarità nella gestione degli appalti del comune assieme a quello di torreano altra località friulana le porte di udine ipotizzato anche il reato di peculato per l'uso di un generatore di elettricità comunale impiegato da uno degli indagati per una festa privata notizie da napoli e dalla campania contagiati tre camerieri dello scoglio ristorante dei vip a massa lumbrezze sono state ore di grande confusione di molta apprezzione anche di rabbia ma finalmente comincia a diventare più chiaro il quadro che negli ultimi giorni ha fatto scattare l'allarme covid in costiera dove a metà luglio sono passati per un'escursione i giovani romani provenienti dal cilento e poi diretti a capri alcuni di quali tornando nella capitale sono stati trovati positivi lunedì sera giunta conferma che tre camerieri del ristorante lo scoglio di marina del cantone a massa lubrense che ha ospitato il gruppo il 17 luglio sono positivi asintomatici erano stati sottoposti a controlli come il resto del personale dopo che dall'asal di roma era arrivata la segnalazione degli spostamenti dei ragazzi torri annunziata palazzo a rischio crollo sgombero per comando vigili e sette famiglie e a rischio crollo il palazzo storico di piazza nicotera a torri annunziata che tra l'altro ospita il comando vigili o prontino il sopralluogo dei vigili del fuoco chiamati dall'amministratore di condominio ha riscontrato una sezione alla struttura del lato di via frumento che secondo le prime ipotesi sarebbe partita dal cedimento delle fondamenta per questo motivo i pompieri hanno allertato tutti i condomini allo sgombro dello stabile gli stessi caschi bianchi che dovranno trovare una nuova sede hanno notificato il provvedimento a sette famiglie ed uno studio medico su 13 appartamenti presenti le 21 persone hanno iniziato a lasciare l'edificio notizie dalla puglia dopo il caos in consiglio il centrodestra attacca emiliano dicono pagliacciata sulla doppia preferenza pronti ad approvarla in un minuto vediamo la puglia questa doppia preferenza il resto è una manfrina di un disperato che sa che il terreno gli frana sotto i piedi e duro l'attacco del centrodestra in consiglio regionale al governatore michele emiliano dopo il caos dell'altra notte con l'affossamento del ddl di modifica della legge elettorale per introdurre la doppia preferenza di genere in vista delle elezioni di settembre da una parte gli oltre 1950 emendamenti presentati dalle opposizioni dall'altra l'abbandono della maggioranza con la caduta del numero legale dopo che poco prima era stato approvato un emendamento a doppia firma da mascelli conca forza italia indipendenti per impedire la candidabilità dei componenti delle task force regionali che di fatto fermava la corsa del dell'epidemiologo pierluigi lopalco tra le liste di emiliano bollettino coronavirus in puglia il 20 il 29 luglio sono dieci nuovi casi sono dieci nuovi casi di coronavirus registrati in puglia secondo i dati forniti dal bollettino della regione per il 29 luglio complessivamente sono stati eseguiti 2454 test con sette positività in provincia di lecce una nel barese e due nel foggiano notizie da notizie da treviso e dal veneto dramma casier cancello si stacca e piomba su un bambino di quattro anni l'incidente è avvenuto alle 20 e 20 di ieri sera nel cortile dell'abitazione in cui vive con i genitori il piccolo e in gravissime condizioni al cafoncello il prezzo del mattone a treviso non scende vale 2050 euro al metro quadro crollano le vendite di immobili ma il capoluogo della marca resta tra le città più care rega trevigiana e referenti d'aria agitano ancora il partito ora spuntano anche i parenti sostituiscono i vecchi potenti segretari di circoscrizione ma adesso avranno solo compiti organizzativi i mal di pancia sono di terraio e castellana rotas sposta gli uffici nel parco all'aria aperta si lavora meglio venerdì inaugurazione di nuovi spazi nell'area verde di proprietà dell'azienda il titolare ha detto che l'idea è nata anni fa ora con il covid diventa una necessità per tutti covid nel centro psichiatrico sei pazienti e due operatori positivi otto nuovi casi nella marca mercoledì 29 luglio salgono a nove ricoverati in malattie infettive al cafoncello tamponi sono in fase di processazione all'ex caserma serena e adesso passiamo alle notizie del friuli venezia giuria e diamo subito la parola alla nostra corrispondente sabrina ciccotti il sindaco di premariacco in provincia di udine roberto trentin è stato arrestato per presunti appalti truccati che hanno coinvolto sia il comune di premariacco che quello di torreano le indagini erano partite a seguito di alcune segnalazioni da parte di un dipendente dell'ufficio tecnico che in più occasioni si era rifiutato di seguire le richieste del sindaco le fiamme gialle e la procura della repubblica grazie anche a un software spia indagano sulle attività illecite che hanno coinvolto il sindaco il vice sindaco il consigliere e il segretario del comune di premariacco coinvolgendo anche vari imprenditori e cittadini privati gli arresti domiciliari per il sindaco sono stati disposti con l'accusa di peculato d'uso e di truffa gravata ai danni dell'ente pubblico falso ideologico in atti pubblici tutti gli atti amministrativi e i documenti sono stati sequestrati per comprovare le responsabilità degli indagati è tutto da udine sabrina cicotti per radio science bene cari amici e riprendiamo con le notizie dal friuli venezia giulia gorizia in lutto per l'ultimo saluto a stefano alle 18 nel campo sportivo dell'azzurra e funerali del tredicenne morto dopo un volo di 30 metri nel pozzo del palazzo coronini cromberg giovedì appunto 30 luglio ci sarà questo ci saranno i funerali di stefano il tredicenne morto sarà celebrata insomma la funerale sarà celebrata dall'arcivescovo monsignor carlo roberto maria radelli sono in programma alle 18 appunto nel campo sportivo dell'azzurra in via della colonia 15 astracis pordenone e esplosioni e fiamme in un'abitazione momenti di paura pierisera a poca distanza dall'ospedale per fortuna nessuno è rimasto ferito ferito come dicevamo poco dopo le 19 a pordenone per due esplosioni c'è stata paura che per due esplosioni che sono sono che ci sono state appunto che hanno dato perché sono diventati in incendio in un'abitazione in via del marinario a poca distanza dall'ospedale santa maria degli angeli incidente sulla napoleonica ferite mamma e bimba di tre anni scontro tra due auto in comune di bertiolo all'incrocio tra la regionale e via stradalta scontro tra due auto lungo la regionale 252 intorno alle 18 e 45 nel comune di bertiolo all'incrocio tra la napoleonica e via stradalta immediatamente è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di cotroibo giunti sul posto i pompieri hanno trovato le due vetture incidentate una delle quali trasportava una famiglia composta da marito moglie e figlioletta di tre anni raffica di incidenti lungo la stradale del friulio occidentale lungo la regionale 251 c'è stato uno scontro tra camper auto e moto con due centauri feriti e un anziano investito e degli trasportato in ospedale quindi mattinata intensa per i vigili del fuoco dell'alta pordenonese che sono intervenuti per prestare soccorso in tre diversi incidenti appunto che si sono verificati in successione sfruttamento del lavoro in un ristorante etnico nei guai due gestori del locale pordenonese pagavano i dipendenti tre euro all'ora utilizzando il nero sono accusati anche di filmati illegali e minacce sfruttamento del lavoro in salario medio all'ora di circa tre euro e questa l'accusa ipotizzata dalla procura della repubblica di pordenone nei confronti dei due titolari di un ristorante etnico con dieci dipendenti i due gestori stranieri sono stati denunciati anche per lesioni colpose violazione delle norme in materia di sicurezza e minacce nei confronti di un lavoratore falso documentale e utilizzo in debito dei sistemi di controllo dei lavoratori bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della rassegna stampa e della rassegna stampa in studio con voi l'osario moreno buon proseguimento con la programmazione grazie a tutti